Le scimmie per parlare del razzismo, sì, proprio le scimmie, perché io dipingo solo scimmie come metafora dell'essere umano. Gli insegno che siamo tutti scimmie, girando il concetto. Invece oggi penso che assolutamente non è successo nulla, nulla. La prima volta che vedete il libro e pensate, wow, è possibile? È il terribile front page che ho mai visto. Grazie. Ciao. 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 Grazie a tutti